L'Ellera va incontro a un'altra domenica nera, perdendo la seconda partita consecutiva in monta. Il Ponte Valleceppi torna a casa con i primi tre punti stagionali, grazie alle perle di Regnicoli e Reulis. Il primo tempo è uno di quelli in cui viene da chiedersi se è merito delle difese o ci si trova in una giornata no da parte degli attacchi. Per gran parte la prima frazione la partita rimane bloccata. Vengono costruite poche azioni pericolose e si gioca principalmente a metà campo. Il progettivo in porta arriva al 26esimo, con Dirma che dal limite non riesce a mettere in difficoltà da Signoli. Dieci minuti più tardi Rolandoni si mette in proprio. Si accentra alla sinistra, arriva al limite dell'area e pro la conclusione, parata in tuffo da Biscadini. Nel capovolgimento di fronte il Ponte Valleceppi guadagna una punizione. De Iuri sbatte in velocità per sorprende la difesa avversaria e lancinata a Vergaini, che sulla sua conclusione guadagna un corner. Al 38esimo Fiorindi viene trascinato giù in area da Minelli, per di Carlo di Pescara e regola senza alcun dubbio. Dal dischetto si presenta Catullo, che trova la seconda rete consecutiva in due partite. Biscadini intuisce la conclusione, si tuffa alla propria destra e tocchi il pallone, ma non riesce ad impedire il gol. Da lì Lellela sembra ribadarsi mentalmente. Al 43esimo Gianse viene lanciato in profondità, Biscadini esce bene ed anticipa di testa l'ex Messina. Un minuto dopo Eman Johnami, a mettersi in proprio, e provare una conclusione al volo, trovando un bel gesto tecnico ma naturalizzato bene da Biscadini. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo. Nel secondo tempo è il Ponte Valle Cepio, salito in cattedra. Nello spogliatorio sembra successo qualcosa. Gli ospiti spingono di più e sono meglio organizzati. Al quinto, Tolandone si mostra illuminante sul piano fisico, cavalcata, costo-coste per tutto il campo, prediscadicata per Ianze, che però si allunga troppo la palla. Al decimo da Gnicoli scioglie il dubbio del primo tempo, dimostrando che l'attacco non è una giornata negativa e segnando un euro da gol. Betti mette un travesione alla destra. Il numero 9 sfrutta lo spazio concesso alla difesa avversaria e in acrobazia segna quel che si candida adesso ai gol di giornata. Al venticinquessimo ancora protagonista da Gnicoli, in un episodio di nada con Mattia, l'ex di turno. La Millie perde palla nella propria metà campo. Dierma la fa sua e l'anciimprofonità da Gnicoli. Mattia prova ad allungarsi ma non riesce a arrivare il pallone. Il numero 9, a tu per due quattro signori, cade dopo un contatto con Mattia. Grandi proteste per gli ospiti, per Di Carlo è tutto regolare. Quattro minuti più tardi, altri cioccolatini da gustare per gli amanti del bel gioco. E Iulis decide la partita, da ex di turno. Punizione alla sinistra, palla che entra fil di palo e da signori che possono raccoglierlo nella rete. L'era prova a fare giro nei ultimi minuti. Al quantesimo Nuti colpisce di testa da corda, non mi scadini per la facile. Al quantunesimo è ancora il numero 19, lanciato dal tocco di Catubini, ma che girandosi non riesce ad iniziare verso la porta. Al quanteseiesimo Fiorindi apre il piattone, ma non dà abbastanza forza alla conclusione. Dopo cinque minuti di recupero, la partita termina con la rimonta del Ponte Valleceppi. L'era paga il crollo psicologico dopo a prolezza di Degnicoli e l'assenza di bombe al Polidori. Convolata Nozze con la sua Melissa ed in partenza per il viaggio di Nozze, al quale vanno gli auguri da parte di tutta la nostra relazione. Ma la mia impressione, l'ho detto anche ai ragazzi alla fine del primo tempo, che abbiamo fatto una buona mezz'ora iniziale. È stata una partita abbastanza equilibrata, in cui però eravamo mai messi in campo, avevamo comunque contenuto bene l'ellera. Poi che è successo? È successo questo episodio del rigore. Forse lì siamo stati un pochino ingenui e ci siamo smarriti nell'ultimo quarto d'ora. Lì abbiamo rischiato tantissimo, più per demeriti nostri perché mentalmente siamo un pochino sembrati fragili in quella infrangente. Nel secondo tempo, poi devo dire anche a volte gli episodi devono girare, è venuto questo capolavoro di Luca, però i giocatori ci sono anche per questo. Da lì siamo stati bravi, abbiamo ritrovato un'altra situazione per me molto vantaggiosa in area di rigore che mi piacerebbe rivedere. E poi è venuto il gol di De Iuri su punizione. Da lì abbiamo saputo soffrire. Per noi sono tre punti importanti, è ancora la seconda di campionato, quindi non si è fatto nulla, però è un percorso che per noi continua, che ci dà continuità e ci fa lavorare ovviamente bene anche durante la settimana. Intanto Polidori e Enrico faccio gli auguri perché si è sposato, oltretutto quindi approfitto per fare gli auguri di una buona vita e sicuramente ci manca. Poi dal punto di vista della squadra e del gioco, secondo me c'è stato forse un calo di tensione, ma più dopo il gol bellissimo che ha fatto Regnico, bisogna riconoscere che ha fatto un gran gol e poi dopo probabilmente lì abbiamo avuto un po' un contraccolpo. Però al di là di questo insomma la squadra che ha fatto il primo tempo era decisamente diversa rispetto a quello del secondo. Cercheremo di capire e di analizzare insieme quello che dobbiamo fare per fare meglio assolutamente dalla prossima gara.